Da oggi a venerdì la FIDAP e l'amministrazione comunale di Sant'Agata Libattiati insieme all'Accademia delle Belle Arti di Catania offriranno una mostra di abiti per ricordare la figura di Sant'Agata, compatrona del paese. La mostra resterà aperta dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 17.30 alle 19.30 nel Palazzo Comunale a promuovere l'iniziativa Domenica Liberti, presidente della FIDAPA e Liliana Nigro dell'Accademia Catanese. Sono contento di questa iniziativa, spiegate il sindaco Carmelo Galati. La nostra amministrazione l'ha sostenuta e voluta fortemente e vuole così rendere omaggio la nostra compatrona.